Allora, l'operazione si è svolta partendo da un furto effettuato nella gioielleria buffa nel centro storico di Albenga il 24 maggio di quest'anno. In quell'occasione sono stati asportati i gioielli per un valore di 140.000 euro circa. Dall'esame delle telecamere e delle tracce elettroniche di cui siamo dotati, siamo risaliti a alcune autovetture, poi pedaggi autostradali, individuazione e identificazione di questi personaggi di origine colombiana che erano già noti le forze polizie anche sotto altri nomi, giravano sempre con documenti fasulli ma sono stati identificati con il nome originale e poi monitorati per tutto questo periodo e da lì ci siamo accorti che avevano effettuato altri 5-6 furti o tentati furti e altri 10 tentativi in tutta Italia. Modus operandi? Modus operandi avveniva in questo modo, facevano 3-4 sopralluoghi in obiettivi che ritenevano buoni per loro dopodiché al giorno che decidevano 2 facevano il pali fuori e 4-5 come nel caso di Albenga 5 sono entrati dentro non insieme ma in modo separato in modo che occupavano tutti gli impiegati si facevano tirare fuori degli oggetti dalle vetrine o dalla cassaforte e uno o due di questi a turno nell'occasione propizia svuotevano la cassaforte come hanno fatto in Albenga. In altre occasioni la banda è composta anche da altri personaggi su cui ci stiamo lavorando questo cambiava sempre il numero e la composizione dei componenti del colpo Grazie. Grazie. Grazie.